Ehi, guardate Zucco! Ehi, Danny! Siamo in Gio di Maggio! Ma che roba è? È il carnevale! Dove l'hai fregato questo maglione da campione, eh? Mentre voi andavate in giro a rubare qualche copertone, io mi allenavo in atletico. È la fine del mondo! Danny Zucco è diventato un atleta! Sì, certo, è così. E adesso che fai? Ci lasci? Beh, non potete mica andare sempre a rimorchio, no? Oh, andiamo ragazzi, lo sapete che siete importanti per me? È solo che tengo molto anche a Sandy e farei qualunque cosa per averlo. Sandy! Dimmi tutto, cocco! It's electrifying! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti